La scomparsa del piccolo Tommy Vi portateci Vi prego Ispettore Nessun commento Il mistero rimane Il corpo non è mai stato ritrovato Che le pensi? A lui Posso vederlo? Tommy è ancora molto confuso Non sappiamo cosa ha passato durante questi anni È silenzioso Che sa che gli hanno fatto? Non ha il suo dovere Non ha il suo sguardo Che dici? Linda è sua madre Ma non riconosce neanche lei Il mio figlio decide che va bene Mio figlio è vivo Capito? Tutta colpa tua lo sai Ma l'abbiamo ritrovato Ma è lui! Perché non mi vuoi? È stato lui La sta facendo impazzire Chi sei? Vai via Questa è casa mia Tu cosa vuoi da noi? Non mi fai paura Tommy! Siete dei veri cinefili? Oggi vi metto alla prova Sapevate già che O.J. Simpson fu considerato per il ruolo di Terminator Nella pellicola dell'84? Beh, fu scartato perché è considerato troppo simpatico Non ci crederete mai è data così E poi vi ricordate invece in un altro film Un water pieno di cacca? Beh, tutta la cacca utilizzata sul set di Trainspotting Esatto Era ovviamente cioccolata E pare anche buona Perché la leggenda vuole che il castene andasse a ghiotto E che la leccasse addirittura dalla tazza del water Direttamente E con questa bella immagine vi lascio e vi aspetto al prossimo video Ciao a tutti da Valeria